Salve signori e signori, io sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Insegno agli scrittori come scrivere storie più coinvolgenti, più emozionanti per il lettore, più immersive che facciano entrare nella storia veramente e travolgano il lettore appassionandolo quanto è meglio di un film. Per spiegare in modo molto semplice. Oggi voglio parlare di un argomento sempre ispirato alla lettura dell'arte della scrittura drammaturgica, manuale che ho letto un paio di volte in passato e ho recuperato quest'anno di nuovo. Avevo tutti ancora gli appuntini messi in passato. Oggi voglio citarvi un punto tratto da pagina 103. Dice Se vogliamo rappresentare la noia non è necessario annoiare per forza il pubblico. E non c'è bisogno di essere superficiali per mettere in scena un personaggio superficiale. Dobbiamo sapere quali sono le motivazioni dei nostri personaggi anche se loro stessi le ignorano. Per descrivere dei personaggi vuoti l'autore non deve usare una scrittura vuota. Nessun sofisma può giustificare questo dato di fatto. Uno dice che cazzo abbiamo appena letto? Allora è molto importante. Su due livelli. Il primo a livello di scrittura creativa, di scrittura per chi non sa cosa è la scrittura creativa. Il modo di scrivere in prosa. Nel nostro caso ci interessiamo di scrittura immersiva. Il modo di scrivere in prosa per la narrativa al fine di consigliere una serie di obiettivi diciamo di natura retorica, di natura, di filosofia della narrativa insomma. Che sono quelli di entrare nel personaggio eccetera eccetera che hanno poi lo scopo di emozionare il lettore quindi fa la passione alla vicenda e fondamentalmente obiettivo retorico portarlo a godersi a leggere tutta l'opera fino in fondo. Ok? Bene. Qui da un lato analizzeremo la questione da questo punto di vista. Dall'altro lato analizzeremo da un altro punto di vista. Comprendere il personaggio. Capirlo però davvero. Allora. Primo punto. Se il personaggio si annoia la scena deve essere noiosa. Questo ovviamente non ha alcun senso. Ora una scena deve essere sempre interessante. Deve essere basata sul conflitto. Essendo basata sul conflitto di qualcuno vuole qualcosa. Qualcosa gli si oppone. Non può per definizione essere noiosa. Anche perché se noi ci annoiassimo rischieremo di mollare la lettura. Ma lo scopo retorico della narrativa. Per chi non sa che cos'è lo scopo retorico della narrativa. Va da rivedersi il corso base di scrittura creativa. Qui sul canale trovate la playlist col corso base. Lo scopo retorico della narrativa è far proseguire la lettura. Cioè il tuo testo come prima cosa che deve fare. Prima ancora di convincere l'autore di una certa tesi. Tipo tu stai scrivendo un testo per convincere le persone che è importante fare piattaforme eoliche in mare. Ok? Se la gente è arrivata a pagina a pagina 2 chiude il libro spara un getto di vomito che investe la parete e poi muore e tu così ammazzi 50 60 mila persone che non saranno persone che poi firmeranno la tua petizione per fare piattaforme eoliche in mare. È un problema. Ok? Quindi il tuo primo obiettivo è che il lettore prosegue la lettura e possibilmente non muoia vomitando. Ok? Qui perché se non prosegui la lettura non potrà leggere letteralmente il tuo libro. Chiaro? Questa è la cosa che spiega Winkley-Zon-Boot in The Retorical Fiction come primo obiettivo. Ed è un obiettivo retorico proseguire la lettura. Chiaro? Quindi un testo noioso è un testo che scaccia il lettore e quindi non prosegue la lettura e quindi è fallito l'obiettivo retorico. Uno dice ma come rappresento la noia? Un discorso simile nel corso avanzato lo faccio con la confusione. Come rappresento che il personaggio è confuso? Devo scrivere in modo confuso e quindi non comprensibile per il lettore di una scena molto chiara o devo scrivere in modo chiaro cioè comprensibile per il lettore di una scena confusa? Ovviamente il secondo obiettivo perché il testo scritto deve comunicare informazioni. Queste informazioni devono arrivare in un modo preciso. Poi ogni persona avrà nella sua testa delle immagini leggermente diverse. La stessa parola evocherà immagini differenti. Ci saranno delle variazioni però nell'insieme li stai direzionando verso una certa cosa. E noi dobbiamo scrivere in modo chiaro cioè direzionante cioè comprensibile per il lettore di una scena confusa. Quindi evocare la chiarezza della confusione. Quindi evocare in che modo il personaggio ci sembra evidentemente confuso. Quindi come pensa in modo confuso? Come ha associato un'esplosione? Ha i sogni ovattati nelle orecchie? Tutta una costruzione che c'è l'impressione del ah è confuso per non so incidente d'auto e lui barcolla fuori dall'auto in stato di confusione ok? Ma noi dobbiamo capirlo. Se fossimo in un film lo vedremmo. In narrativa siamo dentro il personaggio. È differente come funziona ma comunque dobbiamo capirlo. Se noi leggendo le cose non capiamo una mazza? Cioè è una roba molto chiara un tizio confuso ma c'è scritto in modo confuso e non capiamo niente. Di là probabilmente molliamo anche la lettura quindi scopo retorico fallito ok? Quindi abbiamo uno scopo di scrittura e uno scopo legato all'essere nel personaggio. Torniamo allo scopo di scrittura ok? Rimaniamo su quello. Tu vuoi scrivere della noia ok? Ma scrivere della noia non vuol dire scrivere in modo noioso. Vuol dire scrivere una scena con conflitto, un personaggio che vuole qualcosa qualcosa di sopporre, il personaggio ci sta annoiando. Dobbiamo percepire la sua noia in modo narrativamente interessante e questo si collega al secondo obiettivo essere nel personaggio perché i due discorsi non sono separabili. Se tu sei veramente nel personaggio ti accoglierai che la sua noia è composta da molte altre cose ok? Non è semplicemente annoiato. Lo può dire ma come se è annoiato è annoiato va bene. Facciamo un passo fuori dal personaggio. Lui cosa veramente sta vivendo? Cosa veramente sta facendo? Perché da fuori la sua noia può sembrare tutt'altro che noiosa? Per esempio se il nostro personaggio è bloccato in fila, ha dei pensieri sulla gente che sta impiegando mille anni a fare quello che deve fare tipo infila la cassa con delle persone lentissime, con quella persona che ha dimenticato di prendere un vaso e allora chiede la cassa possa andare a prendere e poi non dopo quattro minuti ancora non è tornata e tutte cose che si allungano, si allungano, si allungano eccetera eccetera il suo fastidio, la sua noia può diventare anche un fastidio ok? La sua noia può essere composta da qualcos'altro. Un personaggio che si annoia per esempio potrebbe essere molto attento ai dettagli ma soprattutto un personaggio che si annoia se la scena ha un obiettivo non avrà soltanto noia, avrà anche un senso pressante di tempo che passa, quindi la noia diventa magari una forma d'ansia, diventa l'ansia per il tempo che passa, l'ansia per fare il tempo, per fare in tempo eccetera eccetera. Se invece noia basta puoi descriverli intorno, una persona che si annoia sta osservando l'intorno, il tempo sembra non scorrere, noto ogni minimo dettaglio, dipende come vuoi costruirla, ricorda che in un testo, in una scena devi avere conflitto, quindi il tuo personaggio annoiato sarà annoiato in un contesto che porta a un conflitto. Non ci farai vedere per due ore lui che si gira i pollici ti fa fuori lo smartphone, scorre un po' Instagram, poi si annoia anche di quello, poi scorre TikTok poi si gira i pollici, poi guarda il soffitto e poi sempre... cioè non farei quella roba lì tenderei a comprimerla, a darci il succo che porti al conflitto. In una scena invece di confusione che non sarà scritta in modo confuso ma scritta in modo chiaro per rappresentare la confusione invece ci mostrerai delle cose che sono chiaramente interessanti per noi, ok? Perché vediamo l'incidente d'auto, vediamo le conseguenze, lui che esce fuori, bla bla bla, eccetera. L'esplosione, lui tra le macerie, noti le cose, ha magari una mancanza di memoria, quindi tu tagli la scena prima che arrivi l'esplosione e riparti che lui sta barcollando fuori perché ha perso diversi secondi in cui c'è stata l'esplosione andata momentaneamente K.O. il suo cervello, tipo quando un'auto ti investe e tu di alcuni secondi non ricordi nulla, anche se non ti sei fatto niente e poi ti rialzi e dici no, tutto a posto, tutto a posto, è che ti ha preso a bassa velocità, che ne so, piccoli incidenti su certe rotonde fatte male, con i passaggi pedonali fatte male, cose così che possono capitare a tutti, ok? Quindi non devi scrivere qualcosa di noioso per comunicare la noia, né qualcosa di confuso per comunicare la confusione, ad esempio scrivere in modo chiaro, con un obiettivo, con un conflitto, la noia verrà rappresentata nella sua fase interessante, il personaggio è stizzito, il personaggio è infastito, oppure la sua breve parte di noia che diventa il personaggio continua a scorrere, a guardare ovunque, a notare dettagli, a fare cose, avrà dei pensieri, lui si sta annoiando ma noi non ci stiamo annoiando. Lui dice, ma perché dovrei fare lui che scorre delle cose, che ha dei pensieri? Perché magari quei pensieri ci servono per dopo, perché magari questa breve scena, questa mezza paginetta, questa paginetta in cui lui sta notando cose e si annoia, ci servono per costruire anche il senso pressante che arriva dopo di, sono passati dieci minuti rispetto all'appuntamento e questa persona è ancora arrivata e lui guarda a questo punto su whatsapp e vede che questa persona entra su whatsapp da due ore, chiaro cosa intendo? a questo punto comincia a diventare un con una tensione che riguarda il fatto che questa persona arriverà o meno, se a questa persona c'è successo qualcosa, magari un giornalista che dove arriverà gli qualcosa sull'indagine che sta facendo, ok? Chiaro come si costruisce? La noia va usata, la noia del personaggio non la nostra noia, noi non dobbiamo annoiarci noi lettori, ma il personaggio può e va usata con uno scopo, fallo il fletto e fai notargli cose, fare cose che arricchiscono la scena, oppure trasformare la noia nelle conseguenze a noia, irritabilità, costruirci il conflitto attorno, chiaro? Poi, torniamo invece sulla seconda parte, quindi non la noia, la confusione, la cosa che non va resa così in scrittura o in scena, ma il fatto che ci può venire da una cattiva esplorazione del personaggio, perché per adesso abbiamo fatto dei casi molto border, cioè la noia che si interlacciava tra scrittura noiosa e scrittura e comprensione del personaggio, ora facciamo una pura di pura comprensione del personaggio. Prendiamo l'esempio di Agri, un personaggio vuoto non va scritto in modo vuoto, ok? Cosa vuol dire questo? Immagina che tu vuoi rappresentare un personaggio che sia una classica adolescente, che magari quando era una bambina alle elementari, quando era alle medie, era una ragazzina piena di hobby, che faceva danza, faceva sport, che insomma faceva judo, varie cosine, poi improvvisamente al liceo cambia, comincia a truccarsi moltissimo, comincia a frequentare compagnie molto diverse da prima, perché sono le compagnie delle superiori adesso, e queste compagnie sono tutte di ragazzine che vautano la propria esistenza in base ai feedback positivi che ricevono dai maschi. Quindi per loro tutto diventa un piacere ai ragazzi. E questa ragazzina, con tutte le sue amiche che sono così, perché non vuole stare sola diventa così. Ma nota, abbiamo detto perché non vuole stare sola. Nota, quindi non è più una voglio scrivere di una vuota ragazzina che pensa soltanto a uscire a bere, a ballare, a baciarsi con i ragazzi appena incontrati così a caso, facendo a gara con l'amica a rubarsi i ragazzetti e baciarli in discoteca, cagate così da ragazzini, cioè quelli che talmente vanno alle discoteche pomeridiane o cose varie, non quelli che sono adulti e vanno alle discoteche normali. Quelle cagate lì proprio da 15-16 anni, ok? E tu vuoi rappresentare questo? Vedi, non è il vuoto. Finché tu ti fermi a giudicare, e tu non devi giudicare il personaggio. Tu lo giudichi fuori e dici, una ragazzina vuota, senza hobby, senza interesse, che fa soltanto ste minchiate. No, tu devi entrare nella profondità del personaggio. E ci siamo entrati pensando a lui, pensando a lei in questo caso, pensando al fatto che fa questo per non rimanere da sola, per non essere isolata alle sue amiche. Perché il suo circolo sociale, che le dare prova sociali, il suo famoso circolo dei pari, si chiama così in ambito mentalità, quando si insegna il concetto di circolo dei pari, per insegnare alle persone che gli altri riprova sociale, ci influenzano facendoci credere che certe cose siano normali, ma se ne avessimo un circolo di amicizia diverse, ci sembrerebbero tutt'altra le cose normali? Tipo signori, per chi di voi voglio ogni venerdì sera ubriacarsi, a bere, a parlare di calcio e figa, vi informo che non è normale. Ci sono persone con circoli di amici totalmente diversi, che fanno cose totalmente diverse. Siete voi che pensate che la normalità sia quella, ok? E che quindi vedete solo quello e pensate che tutti facciano quello. No, siete degli sfigati e probabilmente le cose vi andanno male per tutta la vita. Chiaro? Bene. Sì, siete stati giudicati, perché in questo è un esempio che fate schifo. Quindi la ragazzina non è vuota, che dice una ragazzina vuota, è una ragazzina che, certo, sente un vuoto dentro di sé, ma non vuol dire essere vuota, trova probabilmente una fortissima ansia sociale, vuole piacere e rimanere con le sue amiche per non essere sola, ma perché non vuole essere sola? Perché non ha altri amici e deve aggrapparsi a questo? E poi si parla di questa cosa, perché non ha altri amici? Perché magari è una persona che può essere molto affettuosa e quindi aveva creato delle piccole, un numero piccolo di fortissime relazioni alle medie, perdendosi queste relazioni, perché la sua migliore amica magari si sposta, non so, sono a Parma, la sua migliore amica va a vivere a Reggio Emilia e quindi non potranno frequentare la stessa scuola. E un'altra sua amichetta, quindi magari aveva due o tre fortissime amichette, quindi aveva una forte selezione sugli amici, gli altri hanno blandi conoscenti, e un'altra invece lei vuole fare, che ne so, vuole fare il liceo linguistico e lei invece vuole assolutamente fare lo scientifico, cosa che lei non può scendere a compromessi a farlo, perché la matematica la odia e non vuole andare in quella direzione, non so se è convinta che il linguistico sia meglio per lei, perché gli hanno sempre detto che ha una forte propensione per le lingue, perché magari è bilingue di famiglia, ok? Cioè varie piccole cose, lei aveva una capacità positiva a scegliere pochi amici a coltivarli, applicate in un momento della vita sbagliato, e adesso che si trova isolate in un nuovo ambiente, lei gli amici li sceglieva nella scuola, perché così è stato elementare, così alle medie, ora che tutte le amicizie sono tossiche, sono amicizie sbagliate, sono ragazzina un po' sbarellata a livello di cervello con valori sbagliati, magari perché hanno un forte, tra virgolette, leader, una ragazza più forte e carismatica delle altre, che è convinta che bisogna piacere ai ragazzi e basta, eccetera, eccetera, e lei quindi prende questa via, ok? Qui sta esplorando un personaggio che magari ha tratti anche positivi, non ha solo un vuoto dentro, ha un vuoto dentro perché lei credeva molto all'importanza di amicizie coltivate, di valore e singole persone a cui essere molto legati, non tante persone. Ma questa cosa applicata adesso su amicizie sbagliate la porta a una visione della vita che la fa stare male. Quindi vedi, in questo personaggio che tu dici vuoto, che va semplicemente tutti sabati pomeriggio alle disco quelle pomeridiane per ragazzini, soltanto per baciare degli altri ragazzetti e per fare chiacchiere vuote e passa il tempo con il suo circo di amichette, con gli amichetti maschi un po' più grandi che gli porta la marijuana e si fanno le canne, oppure gli altri che sono un pochino più grandicelli o semplicemente vanno in negozi dove se ne fregano di guardare che età hai e comprano alcolici e quindi passano il tempo bevendo e fumando anche se hanno 15-16 anni. Cioè, uno dice, sì, un personaggio che sembra nel vuoto cosmico, ma dietro questo vuoto cosmico, esplorando, puoi trovare un dramma, puoi trovare un personaggio che può essere un personaggio tragico, ok? Quindi non è un personaggio vuoto di cui scriverai una storia vuota, è un personaggio incredibilmente complesso che ti sembra vuoto perché non ne conosci il percorso che l'ha portato a essere così, magari. Vedete? Questo è il ragionamento. Questo è il modo in cui dovete affrontare le cose. La scrittura non deve essere mai noiosa, mai confusa, sempre chiara, ok? Sempre interessante, anche per rappresentare la noia e la confusione. Usatele come scusa per trovare altro, ok? E il tuo personaggio vuoto non sarà vuoto veramente, sarà pieno di cose. Il tuo personaggio noioso, metti che il tuo personaggio è una persona molto noiosa. È il tipico tizio che è molto impostato, tipo, non si concia come un cretino come me, si concia come un cretino, signora, adesso questa cosa direi che è fuori di dubbio, no? Magari ti fa il video con la libreria senza le puttanate che ho messo io solo i libri, ripresa dritta, senza la porta con i poster, così sembra una libreria più seria, anche se c'è le cose a tema fumetti, però sono molte cose culturali, anzi una bella fetta di cose culturali che io non le vedete, perché sono in questa libreria tagliata, ok? Fa una bella ripresa dritta, si veste in modo consono, con una polo, con una camicia, magari già che cravatta è eccessivo, perché questa è una libreria molto, molto, molto casual in realtà. Puoi fare una libreria elegante, con testi importanti, magari testi legge, perché sei un avvocato che spiega leggi a tutti, modello l'avvocato, quello famoso di la legge per tutti, che comunque si veste in modo sportivo, tu vuoi fare una cosa seria, o fare un ufficio serio, una libreria seria, una scrivania seria, senza quello che vuoi, con i quadri, quello che vuoi. Alcune persone fanno così e sono noiose, non si danno le battutine, non fanno tante cose che sono molto comuni, ad esempio nel campo della psicologia, ad esempio, ho detto mille volte esempio, chissà perché, pensate al ruolo dell'umorismo nell'ambito cognitivo comportamentale, al ruolo dell'umorismo come lo spiega Albert Ellis, il suo filastrocche, il modo di autoderidersi per superare i problemi, i nostri blocchi, eccetera, ok, l'umorismo è molto importante, signori. Quindi pensate a quest'ottica, e pensate, il mio personaggio è noioso, è ingessato, ha il palo nel culo, non ride, e se qualcuno lo prende bonariamente in giro, come assolutamente normale, lui si inalbera, lui si irrita, lui si sente intoccabile, non è uno su cui si può scherzare, cioè, cosa c'è dietro questo? Voi potete esplorarlo, potete dire, ah, c'ha il palo nel culo, non basta c'ha il palo nel culo, dai, è poco, perché è così rigido? Forse perché lui, non lo so, insegna cose di legge, ok, ma lui non è veramente competente, ha forti lacune, avete presente Dunning-Kruger, la curva, ok, dove le persone poco competenti, penso di essere molto più competenti di quanto sono, le persone competenti tendono a sottovalutarsi, ma le persone molto competenti, tendono ad avere una stima credibile della propria competenza realistica, ok, quindi lui in quella fase in cui è competente, ma non molto competente, essendo competente, ma non molto competente, lui tende a sottostimarsi, quindi probabilmente soffrirà della sindrome dell'impostore, il motivo per cui la sindrome dell'impostore colpisce praticamente quasi tutti, studenti universitari, professori, un sacco di professori universitari hanno la sindrome dell'impostore, una cosa assolutamente normale, è che appunto non sono super eccellenze nel proprio campo, sono bravi, quel livello di bravo in cui però tu ti sottovaluti e pensi, forse non sono veramente così bravo, forse non so veramente quello che penso di sapere, cioè non sono nel top 1%, questo personaggio è una persona che soffre molto questa sindrome dell'impostore, ed è una persona molto rigida, quindi tenderà a ingessarsi, anche per proteggersi, perché dice, anche per il fatto che sentendo che tu non ti senti sicuro su quello che dici, devi difenderti dei dubbi, il primo modo per difendersi è impostarti come su un avvocato di successo, con ufficio, bla bla, tutte le cose, e fa in questo modo, non si presenta che ne so a fare una lezione in cui parla di cosa fare se la polizia ti ferma e hai della marijuana nello zainetto, e te la fa magari da una palestra mentre pompa pesi come potrebbe fare l'avvocato e la legge per tutti, è Angelo come si chiama, non mi ricordo più, quello palestrato, direttamente lui potrebbe fare se volessi i video in palestra, parlando di queste cose anche solo per dimostrare che è super competente mentre fa altro, ok? Quindi un personaggio ingessato, ok? Quindi vedete, noi abbiamo preso un personaggio, e abbiamo esplorato cosa c'è dietro, lui è noioso e basta perché ha il palo nel culo, o dietro questa è noiosa e ha il palo nel culo c'è qualcos'altro, ci può essere una sindrome dell'impostore, ci può essere che lui non fa umorismo, perché per fare umorismo, per divertire, per fare le battute devi essere a tuo agio, lui non è a suo agio perché ha la sindrome dell'impostore, capito? Chiaro? Ok. E qui abbiamo già affrontato una profondità, perché appunto questo personaggio, una volta che tu hai capito questa cosa, magari in privato con gli amici intimi, potrebbe invece fare battutine ed essere divertente, perché lì non c'è più quella cosa, che non è che non ha senso l'umorismo, è noioso in generale, è noioso in quel caso. Quando ha la sua scenografia con la scrivania, con la libreria, col quadro, quello che è, in cui parla di legge per convincere fondamentalmente le persone a scegliere come avvocato o divorzista, che cazzo ne so, ok, non sono bravo in queste cose, e un po' il naso, c'è un po' d'allergia signori. Mentre invece al di fuori di questo, è magari la persona più divertente del mondo. Chiaro? Vedete? Andate oltre la base, andate oltre, è noioso, andate oltre, è confusione, andate oltre, è vuoto, esploratelo e troverete persone sfaccettate, interessanti, di cui si può scrivere qualcosa che non sia né vuoto, né noioso, né confuso, ma ricco, complesso, drammatico, umanamente interessante. Chiaro? Bene signori, come ultima nota, vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il mio compleanno. Per il compleanno ducale, tendenzialmente porto delle novità sul corso, e quindi vi anticipo già che ci sarà un'offerta un po' particolare, è puntata a portarvi qualcosa di molto nuovo, molto diverso dal solito, quindi delle cose un po' particolari. Se vi interessa, visto che abbiamo appena parlato di personaggi che possono avere qualcosa dietro a qualcos'altro, non so se vi ricordate, io faccio un video in 2017, erano molto più impostati, perché avevo un po' d'ansia di come presentarmi al pubblico, ok? Ecco, vi anticipo che tra le novità che ci saranno per chi approfitterà dell'offerta, del compleanno ducale che appaierà settimana prossima, ci sarà un qualcosa che riguarda proprio il mio percorso, e come sono passato da essere molto rigido, timoroso, anche io ho avuto la sindrome dell'impostore, ovviamente molti molti anni fa, parliamo di 2010, 2008, 2009, 2010, quel periodo lì, insomma, in cui comunque uno inizialmente dice, ma sono io che sbaglio o sono tutti qua? Quel periodo lì, no? Ti vengono i dubbi, giustamente quando a un certo punto sembra che tutti gli altri non ci arrivino le cose, a un certo punto capisci che gli altri non si informano, non studiano ed è così. Quindi vedrete, avrete dei contenuti molto particolari, se aderirete a quell'offerta, è una specie di insight, di esplorazione della mia evoluzione, vi ne parlerò, più altre cosine interessanti che verranno fornite a chi avrà in generale dei miei prodotti, a pagamento. Quindi signori, settimana prossima, drizzate le orecchiette, non quelle che si fanno con le cime di rapa, in senso le orecchie, drizzate le orecchie, ci sono cose molto curiose, molto interessanti. E ultima cosa, questa sera ci sarà una live molto particolare, avremo ospite, 99% se non succede un disastro, avremo ospite, Alessandro De Concini di ADC. Mio corsista ha formato ancora all'epoca della prima Vaporteppa, quindi il 2015, quel periodo lì, che ha creato un'azienda molto interessante che si occupa di formazione e che insegna gli studenti e ad altre persone come studiare, quindi insegna come studiare, e questa sera sarà ospite nella live con me per parlarci del suo percorso di formatore e fare varie considerazioni interessanti. Quindi, bene signori, ci si becca al prossimo video e ricordatevi, settimana prossima, drizzate bene le orecchie e state bene attenti perché ci hanno delle novità molto interessanti per voi.